ciao a tutti benvenuti alla terza puntata di in cucina per cuori infranti sono sempre qui su questa terrazza sala prove cornice suggestiva coreografica dei cuori infranti al basso abbiamo vincenzo rubini alla batteria roberto ricci grazie oggi vincenzo cosa ci propone il menù questo menù estivo è per i tolleranti infatti è senza glutine quindi ricerca senza glutine ok bisogna essere preparata poi patatine di patate si può usare anche come crema solare una fatta di crudo a testa una fatta di crudo a testa una patatina a testa tutto il piatto tutto guarnito con la salsa di vincenzo beee attenzia che tempo da roberto alla nostra buona 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 staccato di maionese buona ragazzi tutti i bambini buona figlia osti ricorda molto del sene no? ma quando ti ho spermato sul colaccio buona 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 buona